più vicino è un falco pellegrino molto molto bello non avete una scatola più piccola nel senso perché ha bisogno meno spazio ha in realtà è una cosa bravissima così si muove meno ok mettiamo la terra ok ce l'ho attenzione adesso facciamo qualche foro ma nessun problema che attenzione perfetto bravo bravo siamo molto bene bravo il falco pellegrino si non è che me lo puoi inviare quel video si è che è la